D'onde provengono le guerre e le battaglie tra di voi? Non provengono forse dalle vostre bramosie di piacere che si combattono tra loro nelle vostre membra? Bramate e non avete, uccidete e siete invidiosi, eppure non potete ottenere, battagliate e guerreggiate. Non avete perché non chiedete, chiedete ma non ricevete perché chiedete male con l'intento di dilapidare seguendo le vostre bramosie. Adultere, non sapete che l'amore col mondo è inemicizia con Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si fa nemico Dio. Oppure pensate che la scrittura parli a vuoto. Lo spirito che abita in voi vi ama fino alla gelosia, ma dà una grazia maggiore. Per questo dice Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Opponetevi al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Voi peccatori, purificatevi le mani. Voi anime indecise, mondate il vostro cuore. Lamentate la vostra miseria, affliggetevi, piangete. Il vostro riso si trasformi in pianto. La vostra esultanza diventi prestezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o giudica il fratello, dice male della legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei un esecutore della legge, ma ne sei giudice. Uno solo è legislatore e giudice. Colui che ha la possibilità di salvare e di mandare in rovina. Ma chi sei tu che giudichi il prossimo? Orsù dunque, voi che dite domani o dopodomani andremo nella tale città, vi passeremo l'anno, faremo affari, guadagneremo. Voi che non sapete quale sarà la vostra vita domani. Siete infatti un filo di vapore che appare per un po' di tempo e poi si dissolve. Dovreste invece dire se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Voi invece vi vantate lo stesso dei vostri progetti ambiziosi. Un vanto del genere è perverso. Chi sa compiere dunque il bene e non lo compie, costui è impeccato.